Poter lanciare un mouse wireless dalla finestra oppure usarlo come arma impropria è sicuramente un plus non indifferente, soprattutto se lo si è acquistato a 7,99€ al Lidl. Di qualità costruttiva accettabile in base alla fascia di prezzo con ben 5 tasti di cui 2 laterali programmabili più un tasto per selezionare i DPI 1000, 1500 e 2000, più che sufficienti per tutte le normali attività di navigazione, office ecc. Nello spazio di 2,5 cm circa si possono coprire fino a 2000 pixel. Per farlo funzionare basta mettere le batterie ed inserire il micro ricetrasmettitore in una qualsiasi porta USB disponibile. Per i sistemi Windows è possibile anche usufruire del software in dotazione per configurare per piacimento i singoli tasti. In questo video l'ho provato sia su un sistema Linux, nello specifico l'Ubuntu installato su un vecchio portatile Sony, sia su un vecchio tablet Android. In entrambi i casi ha funzionato perfettamente senza bisogno di alcuna configurazione. Sono stati riconosciuti anche i tasti laterali. Su Linux vengono usati principalmente per fare avanti ed indietro. Su Android per fare indietro ed home. I 5 metri di raggio dichiarati probabilmente sono reali. Non ho potuto verificare il mio metro arriva a 2 metri. Dotato di un sistema di risparmio energetico, che a loro dire permette una durata delle batterie di 6 mesi, non sono così ottimista, ma effettivamente ho verificato che il mouse allo spegnimento del PC in automatico si disattiva anch'esso. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Ciao.